Viola, allora che cosa ci dice Capitani, ringraziamo Antonio Capitani per il suo oroscopo, che cosa ci dice su Mighty Fair riguardo all'Ariete? Allora, Ariete, It's Plutone e Giove Time. Il primo, da fine gennaio, coinciderà con l'instaurarsi in voi di un più solido equilibrio emotivo, di una più concreta padronanza su certi eccessi e sulle ire funeste che non pochi butti addussero agli astanti. A pevedo. Il tutto col patrocinio, pure amoroso fornificatorio, di Dan Fortuna. E poi andiamo avanti col Toro. Toro. Quasi tutti gli dei dell'Olimpo zodiacale vi sostengono. Giove, che appaga il vostro bisogno di sicurezza a Tukort. Saturno, che fa intervenire la ragione, laddove Plutone, storto, dovesse tendervi tra anelli di qualsivoglia genere. Urano, che vi fa cogliere al volo le occasioni fortuite e fortunate. Nettuno, che vi rende consapevoli che d'utilità, fantasia e ispirazione possono rivelarsi carte utili da giocare su ogni tavolo della vita. C'è ancora domani, dunque, per ciò che sembrava perduto. Una trattativa, un aumento dei redditi, la rinegoziazione di un rapporto. E per potenziare il processo di svecchiamento di alcuni aspetti del quotidiano. Soprattutto di quelli che richiedono di essere ripuliti dall'eventuale muffa. Intanto, prestigio e autostima crescono. Il corpo alpita e ripalpita. L'ormone non sarà mai in piena, bensì sempre in piena. Tutto bello anche per il Toro, e poi c'è l'ormone che non è in piena. No, no, invece è in piena anche il Toro. Gemelli, comincia Plutone a partire da fine gennaio e per lunghi anni a far zampillare dalle viscere più profonde del vostro io energie e capacità creatività magmatiche e potenti. Proseguirà poi Giove, dal 26 maggio, a far emergere più fiducia anche in voi stessi, ottimismo, predisposizione alla socialità. Intanto, Saturno continua a chiedere cesure lucide e Nettuno vi invita a non farvi fregare, in senso latissimo. C'è ancora domani, dunque, per riuscire a realizzare quei sogni che sono nelle vostre corde e per la dimostrazione, urbi e torbi, delle vostre doti. Il lavoro sembra sul punto di arrivare, espandersi e stabilizzarsi, il saldo bancario di irrobustirsi, l'amore di appagarvi dalla testa al cuore agli alluci, soffermandosi spesso e volentieri anche in zone sudombelicale. Ah! Ecco qua! E che capitani ci mette sempre il pepe in fondo, no? Ci mette sempre il fondo. Cancro è un parterre d'etuale di tutto rispetto, quello composto da Giove, Saturno, Urano e Nettuno, che nei primi cinque mesi del 2024 conferirà ancora più spessore non solo alla vostra immagine professionale, ma anche al vostro io, alla vostra impalcatura caratteriale, in procinto, oltretutto, di affrancarsi dalle eventuali dipendenze affettive, da quelle nocive alla salute, sedentarietà e fumo in primis, e dalle dipendenze del parere altrui. C'è ancora domani, dunque, per quelle esperienze e avventure che vi hanno sempre, o quasi sempre, tentato, e alle quali non avete mai dato corda, magari per timore, sfiducia o incertezza. Rammentate che amici e sostenitori possono rivestire un ruolo determinante per il vostro successo lavorativo, finanziario e amoroso cuccatorio. Mettetevi al loro traino. Dopo il cancro basta, non ce ne sono più di segni. No, ce ne sono. No, cosa c'è, Giove? Leone. Quinto, adesso. Cosa c'è? Il quinto. Bravo, fa contare. Leone. Fatto l'alberghiero. Adesso arriva lui. Apre piano la porta, poi si butta sul letto. E poi, e poi vi inonda di fortuna, anche lavorativa e finanziaria, e di gioia di vivere. Lui è Giove, che dal 26 maggio si rivelerà efficace risolutore di problemi, impagabile motivatore e promotore di aperture proficue e di più canali di comunicazione con chiunque, o quasi. C'è ancora domani, dunque, per un progetto che magari nei primi cinque mesi dell'anno sembrava non avere alcuna possibilità di realizzarsi. E per cui rapporti che in profondità conservano una cartura preziosa, anche se un po' sbiadita in superficie. Gli amori non saranno per nulla platonici. Anzi, pure chi di voi credeva che coccole e tenerezze potessero bastare, capirà che, in aggiunta, l'importante è finire di piacere fornicatorio. Che paura. Ah, il piacere fornicatorio. Il fine è il piacere, credo sia, il fine è il piacere fornicatorio, capito? Sì, sì. Cioè, datevi un po' la fornicazione. Cari amici del, chi erano questi? Leone. Il leone. Il leone. Anche se fino al 26 maggio un po' da me... Esatto. Dopo il 26 maggio potete fare quello che volete. Potete essere un po' più liberi. Però tu lo sai. Lo sai. Qualsia cosa succeda da adesso, il 26 maggio, stai in transo. Stai transollo, come dicevo quando ero ragazzino io, no? Stai transollo, ci c'è ancora transollo, non credo. No, stai sciallo. Stai scialla. Sì, un po' miglio. Un po' miglio, mi ha detto. Vabbè. È andato ciclicamente e torno. Transollo non so se tornerà. Non so, spero che non torno mai. È tornato paie per le sigarette che si usava quando tu eri piccoli. nel 1820. Nel 1820. Cosa si usava? Paglie. Paglie. Scusa, anche adesso. Va bene. Andiamo avanti con... Sesto segno, Vergine. Vergine. Sotto le spinte di Giove Urano, quel vostro tendenziale spirito conservatore potrebbe cedere alla voglia di sperimentare, di aprirvi a possibilità nuove, di abbandonare schemi di pensiero che, a un esame obiettivo, potrebbero rivelarsi limitanti sotto non pochi punti di vista. Saturno, il grande selezionatore, approva l'adieu a ciò che ormai non vi serve più. C'è ancora domani, dunque, per la vostra speranza di riuscire a inserirvi in ambienti, anche lavorativi, contemporanei e futuribili, nei quali potreste dare il meglio di voi. È per un'eventuale idea di trasferimento e di rivoluzionamento tutcurti. Tutelate però i vostri interessi economici. L'amore giunge e vi congiunge a chi vibra all'unisono con il vostro cuore, con la vostra testa e con il vostro ormone. Piuttosto croccante anche questo qua. Grande amore per tutti, ragazzi. Bilancia. Bilancia. Allora, fate la tara ai possibili intralci del primo mese e mezzo dell'anno. Marte potrà imbracciare l'artiglieria e creare subbuglio, ma le sue armi si riveleranno caricate a salve. Ergo, si profila solo un po' di stress. Dal 26 maggio, Giove alimenterà la vostra fame di conoscenza, mostrandovi cibi migliori, letture, corsi, viaggi per l'anima e per la mente. E da persone, strutture e aree lontane potrebbero giungervi gli assist più mirati per andare a segno nelle porte del lavoro e dell'amore. C'è ancora domani, dunque, per espandere le vostre competenze e rivenderle poi a peso d'oro. Ma anche per il vostro saldo bancario, al quale Giove fornirà un nutrimento cospicuo. La vostra arte di argomentare incanterà, il fascino vi renderà mete amorose e fornicatori più ambite di un 6 al super enalotto o quasi. Wow, questa è la bilancia? Sì. E vedi, anche loro hanno un inizio un po' così, poi però con l'arrivo di Giove tutto metto a posto. C'è che dov'è capito così. Poi non lo so, io la leggo. Da il 26 maggio. Il 26 maggio. Cosa c'è? Il 26 maggio ci sarà Giove che entra in questi segni. Esatto. Tutto è un allineamento di pianeti. Eh beh, certo. Poi, ottavo segno, Scorpione. La voce della ragione avrà ragione perché proverrà da Saturno il saggio della montagna, il senatore dello zodiaco che si mostrerà prodigo dei consigli per farvi consolidare e progredire a tutto campo e per dare Aspettate. Aspettate, mi ha perso il segno. E per dare corpo al sussurro del genio e della follia che proverrà da Nettuno. Nel 2024 potrete plasmare come creta la realtà a vostro piacimento. Spesso, non senza sgomento, vostro e anche altrui. C'è ancora domani, dunque, per i sogni, per le alternative, per i pionierismi. Dal 26 maggio, Carisma e Spirito Strategico produrranno frutti succosi anche in termini di denaro. Fino a quella data, invece, i soldi dovranno essere gestiti con occhio attento. Le passioni amorose intanto deflagrano e vi fanno volare. Gioire, fornicare con la consueta perizia scorpionica. Perizia scorpionica. Tu ne sai qualcosa? No, non ne so. Perché ne so, magari fai fornicazioni con dei scorpioni. Le fornicazioni sono affatti miei, non lo so. Ma sai che non lo so nemmeno. Non so nemmeno di chi sei miei. Va bene, andiamo avanti, Viola. Nono segno sagittario. Plutone va d'occhia da fine gennaio e vi include fra i propri protégé, accrescendo il vostro potere di seduzione, persuasione, politico ed economico. In sintesi, dal 2024 in avanti risulterete fra gli incantatori di serpenti più irresistibili dello zodiaco. C'è ancora domani, dunque, per la vostra eventuale candidatura a ricoprire ruoli più influenti di quelli attuali o per una scelta di vita che vi piacerebbe mettere in atto e che scompaginerebbe in un poco il vostro quotidiano. E poi Saturno appoggia la vostra esigenza di liberarvi da ciò che ormai sta di muffa e non serve più. Insomma, il 2024 ha le sembianze di un trampolino dal quale truffarvi in un mare di nuove venienze. In tutto questo il cuore e l'ormone trionferanno e quanti single fra voi diventeranno double. Double. Hai capito? Pensa. Stiamo leggendo l'oroscopo di Antonio Capitani e appunto l'oroscopo di Vanity Fair e andiamo avanti con gli ultimi tre segni che si aprono con Capricorno, il mio segno. Ah, il segno di grazie. Ah, questa è la postilla. Esatto. Fino a fine maggio Giove vi somministrerà una pozione composta da duttilità e giovialità, utili a fare più breccia fra i clienti, i capi, i colleghi e la gente in generale. Non pensate che ciò vi toglierà autorevolezza, anzi, Saturno compiacente la descrive in palese consolidamento. Urano poi vi predisporrà al nuovo insensolato e Nettuno realizzerà un sogno. C'è ancora domani dunque per le vostre mire che saranno orientate anche e soprattutto alla gratificazione nel privato, ancor più che nel lavoro. Settore, quest'ultimo, bacino comunque di successi golosi anche sul piano finanziario. Forse l'amore più grande di voi stessi sarete voi stessi. Ma in ogni caso le stelle appaiono prodige di golosità erotico nirvaniche a due o anche più. Attenzione. Frase finale cicogne lezziose intanto osservamvi. Cicogne? Eh, vuol dire che c'è... C'è una riva? C'è una riva? C'è una riva? Viola? Non c'è paura. Ah, non lo sai ancora effettivamente hai 12 mesi davanti però, attenzione. Sei mesi? È da maggio in poi questo, no? Anche quello? Lai sei da giove, sei con l'arrivo di giove. Sì, fino a fine maggio. No, fino a fine maggio però. Ah, fino a fine maggio. Ok, no, è il contrario. No, niente. Eh, allora, vabbè... Congratulazioni. Auguri, auguri. Tante care cose. Tante care cose. Un saluto ai genitori di Viola che ci stanno ascoltando in questo momento. Perfetto. Che sanno che... Diventate nonni quest'anno. Evviva. Eh, undicesimo segno, Acquario. Plutone mette piede nel vostro segno da fine gennaio e subito avvertite che occorre riesaminare certi rapporti, certe procedure nel lavoro, alcune vostre certezze che pensavate assodate. Oltre che il vostro approccio al lavoro stesso e ai sentimenti. La muta della pelle inizia, la gente se ne accorge e chi vi ama davvero resta, chi non vi amava granché molla. Con concreti vantaggi per tutti voi. C'è ancora domani, dunque, per gli ideali, i progetti, i sodalizi che hanno corpo e sostanza e che dal 26 maggio potrebbero rivelarsi molto più utili, definiti e preziosi. Con conseguenti inserimenti, espansioni, soddisfazioni nel lavoro e con appagamenti amorosi che vivificheranno il cuore e l'ormone. Quest'ultimo più reattivo e potente che mai. Fino al 25 maggio tutelatevi, non gettate la spugna, siate cazzimmosi. Ah, devi tirar fuori la cazzimma. Esatto. Credo che sia quello il concetto. Ultimo segno, pesci. Marte, Giove, Saturno, Urano e Plutone alleati. È dunque una partenza d'anno quasi a razzo, la vostra, con la motivazione a livelli elevati e con la consapevolezza dell'unicità dei vostri talenti e meriti. Perché accadranno a breve fatti concreti che vi apriranno probabilmente ancora di più gli occhi su quanto valete. Ciò avrà respiro lungo e si tradurrà in conquiste e soddisfazioni solide e remunerate. C'è ancora domani, dunque, per i recuperi, per la conquista di nuovi territori, per dar vita a un new business fruttuoso, per stabilizzare ciò che è attualmente precario, per ottenere quel che vi è sacrosantamente dovuto. In molti si accorgeranno che non è possibile mettere i pesci in un angolo. Intanto, anche in amore spazzate via l'utile e date corpo, pure il vostro. A ciò e a chi invece merita, puntini, puntini, puntini. Chi merita, capito, chi merita, vedete voi cosa dare.